Si avvicina il big match di domenica prossima allo stadio San Nicola di Bari. L'inatteso scontro al vertice tra i pugliesi e la Turris metterà di fronte la miglior difesa del campionato, quella del Bari, con appena tre gol subiti e il miglior attacco, quello dei Corallini, andati a segno già 14 volte. Ma se per i padroni di casa il primo posto in classifica è soprattutto frutto della programmazione della società che punta decisamente al salto di categoria fallito nelle scorse stagioni, di contro il secondo posto attualmente occupato dagli uomini di Caneo, è senza dubbio sorprendente se si considera il difficoltoso finale dello scorso campionato e notevoli cambiamenti in rosa. La Turris, reduce da tre vittorie consecutive con prestazioni convincenti, arriva in Puglia con la serenità di chi sta attraversando un momento più che positivo e che non ha particolari problemi di classifica, lasciando tutta la pressione ai galletti allenati da Mignani. Mister Caneo, che causa squalifica non sarà in panchina a San Nicola, dovrebbe puntare sul blocco che ha vinto l'ultimo match contro il Latina, sfruttando la verve realizzativa fuori casa di Santaniello, che fino adesso ha siglato le sue reti tutte lontano da Torre del Greco. La partita è in programma domenica con fischio di inizio alle 17.30, con diretta sia streaming che sulla tv satellitare.